Sindaco, allora le sue dichiarazioni sui matrimoni omosessuali, sul fatto che lei è d'accordo con il ministro Alfano sulla loro cancellazione, non sono piaciute all'Archigay, hanno suscitato un vespaio di polemiche. Lei cosa risponde? Mi dispiace, non posso avere l'accordo di tutti, ma non si trattano delle mie opinioni. Sono opinioni legate alla legge esistente e alla Costituzione. L'articolo 29 della Costituzione parla chiaramente. La famiglia è fondata sul matrimonio, il matrimonio in Italia non è consentito tra coppie dello stesso sesso, quindi credo che chi oggi stia per davvero dalla parte del torto e non stia difendendo i diritti, tra l'altro rispettabilismi di chi vorrebbe introdurre anche in Italia il principio del matrimonio tra omosessuali, lo stia facendo chi fa questi finti albi dello Stato civile. Oggi in Italia il matrimonio tra omosessuali non è consentito. Conseguentemente non è possibile iscrivere nel registro lo Stato civile matrimoni che non sono riconosciuti in Italia. Allora fare un finto albo vuol dire non affrontare il problema dei diritti di queste persone. Allora io ritengo che ci sia da fare subito una battaglia in Parlamento affinché sia disciplinato tutto l'ambito dei rapporti patrimoniali tra le coppie di fatto. Anche la Chiesa oggi le inizia a riconoscere e tra esse anche quelle che hanno chiaramente lo stesso sesso. Ma pensare di violare la legge con una finzione non è dare riconoscimento dei diritti a chi li petisce, ma è invece un grave danno che è fatto dalla violazione di legge. Io credo che questo non sia motivo di polemica, ma deve essere motivo di grande riflessione. Fare can-can può servire per attrarre l'attenzione, ma risolvere il problema vuol dire affrontarlo normativamente. E oggi non esiste una norma che consenta, lo ripeto per l'ennesima volta, la iscrizione di matrimoni diversi da quello riconosciuto dal Codice Civile e dal diritto canonico nei nostri registri dello Stato civile. Quindi è un'inutile polemica, bene ha fatto il Ministro a richiamare alla legge l'attenzione dei sindaci. Quelli che fanno queste finzioni, queste strumentalizzazioni, non fanno il bene di chi vorrebbe il riconoscimento di quei diritti.